ciao tommaso allora oggi il giorno del rogito hai comprato casa intanto complimenti perché così giovane hai già comprato la tua prima casa e volevo chiederti se sei rimasto contento dell'operato dell'agenzia rimasto molto contento dall'operato per la rapidità e l'efficienza che mi ha avuto in particolare paura che mi ha seguito e ti posso chiedere quindi se consiglieresti la nostra agenzia grazie mille grazie ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.